Stefano, uomo della partita, tornavi titolare e subito hai fatto sentire la tua presenza, il tuo apporto più che tangibile. È arrivata questa doppietta, raccontacela perché ti abbiamo visto anche esultare tantissimo sia con i tifosi che anche con l'esultanza particolare con Rodrigo De Paul. Sì, diciamo che oggi sono tornato a giocare dal primo minuto, mi sono allenato bene in queste due settimane e oggi penso che si sia visto. Poi è una partita fondamentale e sì, l'esultanza è sempre bello riproporla perché ci è venuta fuori contro il Genoa, partita in casa e ci ha portato bene. Quindi cerchiamo di farla e mi piace anche esultare sempre con i tifosi perché anche oggi erano tanti e si vede che ci stanno sostenendo e stiamo facendo questa corsa tutti insieme. Ecco, oggi fare tre punti era fondamentale. Sentite che avete messo un mattoncino importante nella Corsa della Salvezza, è chiaro che adesso c'è poi la partita della vita in casa contro la SPAL sabato. Ti chiedo però se anche queste vittorie dell'Empoli, anche oggi è andata a vincere a Genova contro la Sampdoria, voi però avete scavalcato il Genoa, insomma sono veramente tutte lì. Un mattoncino fondamentale perché oggi era una via di mezzo tra il basso e l'alto. Abbiamo superato una squadra, abbiamo vinto una bella partita, adesso abbiamo la partita in casa quindi abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Poi adesso la corsa è fino alla Ferentina, non sono nessuna squadra tranquilla ma noi ce la stiamo mettendo tutta e cercheremo di chiuderla il primo possibile. E l'atteggiamento è quello giusto, grazie mille. Volevo dedicare il gol a mia mamma, visto che oggi è la festa della mamma e lo dedico alla mia mammina.